6 ottobre 2024 siamo sotto il pizzo di claro al laghetto e si tratta della claro pizzo una corsa quest'anno di 7,4 chilometri raccorciata in quanto c'era un po di un po di neve sopra sul pizzo di claro bene è un'esperienza molto bella la seconda volta che la faccio e quest'anno mi sono divertito non ho avuto il muro non mi sono bloccato metà gara e siamo andati anche oggi oltre alcuni limiti abbiamo dato il meglio di noi siamo la migliore versione in qualsiasi momento ad ogni istante si può manifestare una meraviglia qui circondato da queste splendide montagne ci si sente ci si sente grandi siamo un centimetro più vicino dal sole e dal sole volevo dire dal cielo scusa deve essere il cambiamento climatico no volevo dire la cambiamento d'altitudine ho piuttosto queste queste esperienze di corsa perché abbiamo comunque fatto 2000 metri di dislivello sono alquanto significative vedete qua sotto le persone che stanno arrivando hanno fatto una bella corsa e sono contente verranno un buon brodo caldo un tè caldo mangeranno dei crackers un po di zuccheri e poi un bel piatto di pasta comunque oggi è un altro giorno ed è bellissimo un abbraccio e una uca ciao grazie